SEME 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 Sam, sei sicuro ora. SEME 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 NON SEME Mi sembra che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Prova ad entrare nella sua testa. È stata ritrovata. Ormai non c'è più bisogno di te. Ieri notte eri nella paluta. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamati i soccorsi. La ragazza non è la sua. Giusto? Il nome è Samantha Andrade. SEME 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 In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Cunigli. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. SEME 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 SEME